Esattamente due anni fa scoppiò il caso riportato dalla stampa nazionale dell'esibizione durante il Cremona Pride di una statua improvvisata raffigurante la Madonna senza vestiti nonché trasfigurata. L'anno dopo, visto il precedente, l'evento non venne ripetuto. Quest'anno invece l'amministrazione comunale ha ridato la possibilità al Comitato di organizzare nuovamente la manifestazione che partirà alle 15.30 da Piazza Stradivari il 6 luglio per percorrere le strade del centro storico. Le perplessità però non si fanno attendere. Noi come partito chiediamo sempre una tutela rispetto alla cittadinanza. Non chiediamo certamente che vengano non fatti queste manifestazioni perché riteniamo che sia nel diritto di tutti manifestare le proprie idee. Chiediamo soltanto che l'amministrazione insieme all'organizzazione degli eventi si faccia portavoce di un'attenzione all'intera comunità. Quindi una manifestazione libera per le strade ma con la tutela dei cittadini che non si sentono in quel momento di partecipare personalmente ma che possono girare per la città assistendo non in prima persona all'evento. Quindi attenzione a queste scene magari che si sono viste appunto nell'ultima edizione con scene blasfeme. Un'attenzione ai fragili che girano per le strade quindi come i bambini o le persone che hanno bisogno di spiegazione. Come abbiamo visto scene in altri Pride in giro già per l'Italia. Chiediamo che appunto l'amministrazione attuale che tra l'altro è la stessa che ha lasciato il patrocinio appunto al Cremona Pride di vigilare e di fare attenzione. Potrebbe esserci un incontro preventivo magari per cercare di delineare non so delle specie di regole? Sarebbe molto bello che l'amministrazione si facesse portavoce di tutti i sentimenti e di tutte le sensibilità della cittadinanza chiedendo quindi un incontro per non dico verificare però sarebbe una cosa utile che venisse almeno organizzata una riunione per dire quali sono i parametri corretti dove poter svolgere una manifestazione del genere per le vie cittadine. Questo sì sarebbe auspicabile.